Hello there! Oggi nuova puntata di The Sims e vado subito a trovare la mia fantastica casa. Oddio, non sono in casa, dove cavolo sono andata? Vabbè, adesso lo scopriamo, inizio a cliccare play. Ma dov'è che mi trovo in questo momento? Non ho capito io. Ok, non so per quale motivo, ma Cleo da sola ha deciso di uscire così. Quindi facciamola un attimo tornare a casa per mettere le cose in chiaro. Vai a casa? Ok, perfetto. Anche perché, l'avrete capito dal titolo, ci sono delle novità con i personaggi. Oh, eccoci tornati. Appunto, non so perché lei se n'era andata. Siamo tornati a casa un attimino. Allora, come avrete capito, questa è la prima e vera propria puntata in cui iniziamo a giocare con il gameplay. Quindi, finalmente siamo appunto a casa. Forse è meglio mettere l'opzione con le mura così, almeno vediamo tutto. È più semplice giocare perché gli appartamenti sono un po' difficili da gestire perché è uno spazio più piccolo rispetto alle case. Come prima cosa, vorrei assolutamente acquistare i pesci. Tantissime di voi sotto i commenti dell'altro video mi hanno detto Cleo, assolutamente un gatto, un cane e ok, sono d'accordo. Oh mio Dio, c'è qualcuno che è entrato nella nostra casa. Oh mio Dio, che cosa sta succedendo? Vabbè, aspettate. Penso che questi siano i nostri vicini, ma non ho capito perché sono entrati così a caso. Ah ok, qui c'è scritto il quartiere ti dà il benvenuto, quindi forse probabilmente sono venuti a salutarci. Noi presentiamoci amichevolmente nel dubbio. Comunque non è molto normale che così siano entrati a caso in casa nostra, vabbè. Bene, li abbiamo salutati entrambi, lei sembra un pochino triste, proviamo a rallegrarla. Ok, già lo dico come premessa, potrebbe essere che in sottofondo si sentano dei rumori strani perché ovviamente ho due cani, quindi un pochino si sentiranno. In ogni caso, questi due cari anziani che ora se ne stanno andando a caso, ci hanno interrotto perché io volevo comprare appunto i pesci. Assolutamente prenderemo altri animali, ma per rendere le cose un po' realistiche volevo iniziare da un animale così più soft. Quindi prendiamo un pesce rosso, una poeciglia reticulata, una ripopola pesci in generale, oppure una tetra. Io prenderei sicuramente un pesce rosso, eccolo qui che è comparso all'interno del fantastico acquario, e poi vediamo un po', prendiamo anche una poeciglia reticulata, che non so che cosa sia, però è un pesce molto carino, è questo qui viola, carino. Quindi osserviamo... Ah, posta l'intensità della luce? No, lasciamola aperta. Osserva i pesci. Così, molto proud di avere questi due nuovi pesciolini. E appunto, come avrete letto dal titolo, vi devo presentare anche due nuovi personaggi. Ma prima di fare ciò, come vedete qui, anche se abitiamo in un bellissimo e fantastico appartamento, abbiamo 18.000 SimLeon. Io non so mai come pronunciare il nome dei soldi di The Sims, però abbiamo 18.000 monete, diciamo. Quindi dobbiamo assolutamente andare a cercare un lavoro. E secondo me, il lavoro perfetto esiste su The Sims, c'è, non l'ho scaricato, esiste davvero. Andiamo a cerca un lavoro, andiamo nel nostro ufficio, vediamo se da qui si vede meglio, ecco. Cleo, perché non vai a cercare un lavoro? Che cosa sta succedendo? Perché Cleo non va a cercare un lavoro? Iniziamo bene, ragazzi. Allora, reimposta un oggetto, ok. E ora, vai a cercare un lavoro? Perché non vai a cercarlo? Forse perché non si può sedere. Ok, lo cerchiamo con il telefono. Allora, come si fa? Qui, 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 qui. Cerca un lavoro. Allora, stavo dicendo che appunto, su The Sims, in realtà, c'è un lavoro che assomiglia, diciamo, un po' a fare lo youtuber. Perché si chiama... Social media, perfetto. Allora, cos'è che fa tendenza? Dove si mangia meglio in città? Chi è la celebrità più interessante? Inizia una carriera nei social media e sarai tu a rispondere a queste domande provenienti dai follower. Scrivi sul tuo blog e registrati presto i ritrovi per convincere i follower a continuare a seguirti. Rami della carriera, personalità di internet e pubbliche relazioni. Quindi, devo dire che questo sarà il lavoro perfetto, anche se ho letto in giro, visto video, che presto uscirà una nuova espansione che darà altri lavori. E magari poi in futuro cambieremo. Però, non so se siete d'accordo, lo scoprirò nei commenti. Secondo me questa è la carriera perfetta. Quindi, abbiamo iniziato e appunto come inizio... Oh, assegnazione lavorativa. Crea un profilo sui social media. Beh, in effetti bisogna iniziare così. Quindi, Cleo Toms deve rilanciarsi accettando l'assegnazione. Ok, va bene, va bene. Ok, dobbiamo creare un profilo sui social media. Comunque, abbiamo iniziato come stagista dei media. E lavoriamo dal lunedì al venerdì. Va bene, allora come prima cosa facciamo... Crea un profilo sui social media. Però, voglio sistemare questa cosa dell'ufficio, perché abbiamo creato apposta questo fantastico ufficio, lei non lo può utilizzare. Quindi, vediamo un po' che è successo. Mmm, vediamo. Lo spostiamo un po' indietro. Vediamo se così si riesce a sedere. Ok, perfetto. Allora, social network crea un profilo sui social media. Oh, che bello. Ora sì che possiamo utilizzare il nostro ufficio. Qua che lo stiamo creando. E per oggi l'unica cosa che dovevamo fare era questa. Perfetto. L'abbiamo fatto. E oggi è domenica, quindi aspettiamo lunedì per iniziare davvero il nostro lavoro. Qui c'è scritto Cleo ha creato un nuovo profilo sui social media. E poi mi sembra che possiamo poi controllare, esatto, potremo aggiornare lo stato, controllare i follower, oppure eliminarci. Vabbè, questo non credo che lo faremo. Quindi, lavoro trovato. Prima di passare ai nostri nuovi personaggi, vi faccio vedere questa espansione delle stagioni perché sarà molto utile in questo gameplay perché renderà le cose super realistiche. In pratica adesso ci troviamo, come vedete, durante l'autunno. È il primo giorno di 7 dell'autunno. E ci dice anche la temperatura, quindi come vestirci se usciamo, perché sennò prendiamo freddo. E soprattutto la cosa divertentissima è che qui c'è il calendario. È bellissimo, lo adoro e adesso vedrete. Praticamente nel calendario ci dice anche tutte le festività, i giorni in cui lavoriamo e anche il meteo, cioè, è bellissimo. Quindi preparatevi perché presto ci sarà una puntata dedicata alla prossima festività che è il Festival del Raccolto. Ok, quindi ci dobbiamo anche preparare per questa cosa. Poi per esempio qui c'è la festività invernale che praticamente è il Natale, c'è Capodanno, c'è San Valentino, vabbè questo avverrà poi in primavera. Però secondo me è veramente, veramente divertente. Quindi non vedo l'ora poi della prima festività che sarà il Festival del Raccolto. E adesso, trovato il lavoro, vi ho spiegato questa cosa, passiamo a fare amicizia. Quindi ci mettiamo a viaggiare. Lo farò dal telefono così sembra che tipo chiamiamo un taxi. No, viaggiamo da soli, grazie. Viaggiamo per andare a conoscere dei nuovi amici, sperando che siano in casa. Eccoci qui a San Mishuno. Noi appunto abitiamo in questo palazzo qui e nel palazzo subito di fianco ci sono un sacco di persone che abitano. Tra l'altro i due vecchietti abitano qui in questo palazzo, non so perché erano da noi. In ogni caso, ah, qui per esempio vi faccio vedere, ho creato quest'altra famiglia con due figli e un gatto, così per ripopolare un po' la città. Ma qui abitano due persone di cui una, una non è presente, vabbè. Comunque in questo appartamento abitano Luciano e Rosalba, che se mi conoscete, li conoscete, sono due miei amici anche nella realtà. E ho pensato fosse carino, siccome la protagonista è Cleo, aggiungere nel gioco anche dei miei amici reali. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete altre idee per poi in futuro altri personaggi legati alla realtà. Quindi andiamo a trovarli anche se Luciano non è in casa, però magari, non lo so, chiederemo a Rosalba di chiamarlo, non ne ho idea. Ok, ci troviamo davanti alla loro porta, ora busseremo, vediamo chi ci viene ad aprire. Tanana, eccoci qua! Ah, ma c'è anche Luciano alla fine in casa, perfetto, così li conosciamo entrambi. Prima di fare ciò vi faccio vedere velocemente l'appartamento, la casa dove abitano insieme Luciano e Rosalba, che ho appena costruito, appena fatto, quindi volevo farvela vedere velocemente. Allora, come vedete, qui c'è l'ingresso, dove ci troviamo noi adesso, e subito c'è quella che si può chiamare la sala da pranzo, perché ho messo questo tavolone molto lungo per ospitare persone, perché mi immagino una casa dove ci sono spesso amici. E qui sulla parete abbiamo come tutte delle baccheche, delle cose da poter attaccare al muro, mentre dal lato opposto ho messo queste due librerie per riempire un po' il muro, dico la verità. Passando poi avanti, senza mura né niente, passiamo alla cucina, che come vedete ho voluto fare in stile molto diverso rispetto all'appartamento di Cleo, proprio per variare un po'. Quindi questa è la loro cucina, loro hanno anche il balcone, questa è una grande fortuna, loro hanno anche questo balcone che mi sono dimenticata di arredare, vabbè lo farò. Però dalla cucina si passa subito al salotto, con questi due divani, c'è il camino, c'è la tv, e opposto ho fatto questa postazione per entrambi, dove Rosalba si sta divertendo a giocare al computer, appunto con due computer, due sedute e un po' di cosa attaccata alla parete, per farli lavorare lì, così che non debbano farlo appunto chiusi nelle loro stanze, ma hanno quest'area comune. E tornando all'ingresso, questa porta qui dà sul bagno, che è abbastanza semplice, anzi c'è la lavanderia nel bagno, quindi c'è l'asciugatrice e la lavatrice, ci sono vabbè tutte le cose, il water, il lavandino, e da questa parte ci sono i tubi, che sono proprio dell'appartamento, quindi non si possono togliere, e la vasca da bagno con la doccia e una piantina, vabbè. E ora passiamo alle loro due camere da letto, qui si trova quella di Rosalba, che ho voluto fare un po' colorata, utilizzando questo viola, il giallo e il rosa, mi piacciono molto abbinati, quindi c'è la sua cassettiera, ci sono i trucchi in giro, e lei ho voluto fare che ha la passione per la musica, quindi da questo lato ho attrezzato la camera con due chitarre, lo stereo e questi poster musicali. Mi piaceva molto appunto dare a tutte e due una passione che possono seguire, quindi lei musica, di cui si trova invece la camera di Luciano, che invece, oh ha fatto un quadro, che carino, prendiamolo alla parete, vediamo se si può, no non si può, non si può rubaglielo, vabbè, dopo lo faremo. In ogni caso, come avrete capito, la sua passione invece è dipingere, quindi ovviamente, avendo solo questa camera, ha messo tutte le cose dedicate alla sua passione del disegno e dell'arte, qui in fondo, dove c'è la finestra per prendere ispirazione dall'esterno, e quindi si mette qua a disegnare e a dipingere, mentre di qui ha la sua tv e tutte le cose che in una camera servono. C'è anche la cesta dei panni sporchi, perché appunto faranno anche il bucato e poi il suo letto. Lui l'ha voluto fare un po' più sul blu, sul grigio, mentre i suoi vestiti sono più sul rosso. Bene, quindi questa è la loro casa, e adesso dobbiamo assolutamente salutarli, presentarci, sperando che i sim vadano d'accordo, quindi guarda i sim morti viventi con Luciano, che stava vedendo un film horror, cosa molto realistica, perché a Luciano piacciono i film horror. Comunque, lo salutiamo amichevolmente, ok, si stanno simpatici. Possiamo discutere degli interessi, sempre che ne abbiamo a questo punto, non si sa. E adesso passiamo anche a salutare Rosalba, che è sparita, ok, sta. Si è fatta un'insalata, bene, questo non è molto realistico, perché a Rosalba piacciono tipo il junk food. Ah, tra l'altro qui c'è anche tipo il porridge, farina d'avena. Chi è che l'ha fatta? L'ha fatta Luciano. Ah, ci sta raggiungendo lei. Ah, certo, si unisce alla conversazione, così siamo tutti insieme. Eccoci qua, che carini! Quindi, ci siamo presentati anche a lei, parliamo della temperatura fresca, ma sì, quanti gradi ci sono qua? Fa freddo, è ventoso. Oddio, ho visto un simbolo rosso. Chiediamo della giornata. Ho detto qualcosa di sbagliato. Oddio, si sta mettendo a piangere! Che sta succedendo? A caso proprio! Così, sbalzi d'umore. Chiediamo della sua giornata. Parliamo un po' e aumentiamo. Lui intanto sta continuando a vedere il film, così, anche se ci siamo noi, non importa. Discuti gli interessi. Ah, abbiamo scoperto che Rosalba è buffa e vegetariana. Sono tratti che le ho dato io, eh, lo sapevo già. Quindi lui, dai, facciamo anche lui, impara a conoscere, così scopriamo anche dei suoi tratti, vediamo. Discuti degli interessi e dai, Luciano, dici i tuoi tratti quali sono. Non ce li vuole dire? Ah, lui si siede di là, vabbè. Se sei comodo lì, chiedi della sua giornata. Ok, li stiamo interrompendo. Praticamente siamo arrivati nel momento in cui stavano mangiando, vedendo film e il resto. Beh, noi ci mangiamo questo. O forse è... No, è normale, ok. Mangia farina d'avena. Stiamo rubando il pranzo a Luciano, adoro. Bene, io direi che come prima puntata può finire qui, anche perché adesso vi lascio alla creazione dei due personaggi, Luciano e Rosalba. E quindi non voglio che poi magari diventi troppo lungo l'episodio. Io spero che vi sia piaciuta l'idea di aggiungere questi nuovi personaggi e anche la scelta del lavoro di Cleo vi sia piaciuta. Mi raccomando, ricordatevi qui sotto nei commenti di dirmi sempre cosa ne pensate. E io non vi mando un bacio enorme perché in realtà ci risentiamo tra un secondo dove vi faccio vedere come ho creato Luciano e Rosalba. Eccoci qui, appunto, come vi dicevo, adesso vi faccio vedere come ho creato Rosalba e Luciano. Iniziamo da Rosalba. Come vedete ho scelto i capelli lilla e so perfettamente che adesso lei è nera. Però, appunto, volevo rifarmi a quando lei ha i capelli coloratissimi perché secondo me quelli sono proprio il suo segno contraddistintivo. Vabbè, lasciamo stare, avete capito. Primo outfit semplice però allo stesso tempo che ricorda un po' lo stile manga che a lei piace molto. Quindi, però sono stata su colori abbastanza neutri. Per gli altri outfit invece cerco un po' anche di andare sul colorato. Non voglio fare sempre tutto in bianco e nero. Infatti adesso questo vestito verrà immediatamente cambiato perché è troppo noioso. Infatti adesso sto scegliendo altre cosine e alla fine vado su questo vestito che è viola, blu, azzurro. Cioè, penso di non averlo mai usato. Ah, e poi quando mi avvicino e le metto le ciglia, è un contenuto personalizzato quello, eh. Non è in The Sims, lo ammetto. E ogni tanto vedrete che in alcuni outfit le ho messo anche dei rossetti un po' particolari, colorati, perché lei di solito li mette. E quindi volevo sbizzarrirmi anche in quello. Adesso sto facendo l'outfit per quando fa sport. Ero un po' indecisa perché, lo dico sempre, ma gli outfit sportivi in The Sims sono proprio brutti, brutti. Comunque le ho messo anche questo cappellino. Non so se vi piace, non so se le piacerà, però a me piace. Un po' non lo so, era per cambiare un po', per fare degli outfit diversi. Per andare a dormire, vestaglia lilla, normalissima, tranquillissima. Questo invece è l'outfit della festa. E alla fine sono andata su questa gonna perché adoro, adoro, adoro questa gonna. Finalmente una gonna vita alta in The Sims. Ah, ecco, vedete, per esempio, qui le ho messo questo rossetto un po' più rosso acceso. Sì, rosso acceso, rosa acceso. E anche qualche accessorio. E ogni tanto mi vedete anche metterle lo smalto, quello è un contenuto personalizzato. Come costume ho scelto questo qui bianco e oro. E adesso le metto anche gli occhiali da sole sul rosa. Molto carini. E un trucco molto leggero, comunque. Adesso l'outfit per quando fa caldo. Ero un po' indecisa, però secondo me questo outfit qui è molto carino. Perché ci sono sempre dei colori un po' strani, abbinati. E con i suoi capelli così colorati, tra l'altro, le ho messo le treccine. Perché fa caldo, quindi ho detto, dai, se li raccoglie. E mi piaceva, non lo so, esagerare un po' con i colori, anche se alla fine comunque l'effetto è carino lo stesso. E qui ero un po' indecisa su che outfit pesante metterle. Perché in realtà le giacche per le donne non sono molto carine. Sono più belle quelle per i ragazzi. Quindi alla fine ho scelto questo maglione vestito, pesante, con poi i collant a poire e degli stivaletti. Sì, alla fine li ho lasciato quelli, sì, sì. Come trucco sempre lo stesso, più o meno. Siccome i capelli sciolti non posso metterle né orecchini né niente. Quindi abbiamo finito anche con Rosalba. Sono stata velocissima. Siamo già a Luciano, vabbè. Questo è l'outfit... Ah sì, che poi alla fine leggermente lo cambio. Perché mi sono resa conto di essere andata troppo sul nero e sul blu. Quindi dopo lo cambio. Però questo è l'outfit elegante. Adesso siamo passati già a quello sportivo. Avevo le idee molto chiare con Luciano. Questo invece è quando va a dormire. E ho scelto una maglietta rossa. Diciamo che con lui il suo colore è il rosso. Quando ero indecisa andavo sul rosso. Anche qui l'outfit è da festa. Comunque la camicia è un rosa-rosso. Anche per il costume penso di essere andata sul rosso. Sono andata sul rosso? Sì, sono andata sul rosso. Questo bellissimo, l'outfit estivo. Adoro, non so se vi piace io. A me piace tantissimo. E questo è fantastico. Cioè, guardate che bella la giacca per i ragazzi. E per quello che io lo dicevo, che era più bello. Ah sì, adesso sto mettendo anche gli occhiali da sole. E ecco, qui cambio la maglia e la metto più sul rosso. Perché sennò era troppo, vedete, blu e anche Rosalba è vestita di blu. No, e allora gliel'ho messa rossa e ho cambiato anche il star. E poi da lì passo a scegliere i loro tratti che comunque conosceremo anche all'interno del gameplay. Pian piano diventando loro amici. Comunque, la passione di Luciano, il suo sogno è diventare pittore. Mentre il sogno di Rosalba è la musica. No, il sogno di Rosalba non è vero. Il sogno di Rosalba è trovare l'anima gemella. Però la sua passione è la musica. Detto questo, io vi mando anche un bacio enorme. Perché è finita la prima puntata gameplay di The Sims. Ci vediamo prestissimo con un altro video o un altro vlog. Mua!